Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori adesso ci sono due chilometri di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti. Percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. In A1 code tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. Si segnala fumo per un incendio tra Rezzo e Valdarno. In A11 i rallentamenti per veicolo e navaria tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!